La questione dei migranti scende in coda all'agenda del Consiglio europeo, vi aspettavate qualcosa di più? Guardi, non è l'importanza in che collocazione sia il tema, l'importante è che l'Europa inizi a focalizzare una situazione molto semplice. Le coste italiane sono anche coste europee, se non si difendono le coste italiane non si difende neanche l'Europa. Senta, Conte nel suo discorso ha detto essere i fratelli di Visegand, come la valuta questa cosa? Guardi, Conte purtroppo da quando non è più Presidente del Consiglio perde di lucidità ogni giorno. Vorrei far presente che è lo stesso che continua a dire che bisognava abolire la Bossi Fini, è stato in tutti i governi e non l'ha mai abolita. E' quello che dice che il male di tutta la situazione dell'immigrazione è dovuta ai decreti sicurezza e lui era Presidente del Consiglio di quei decreti. Forse un po' di vacanza gli farebbe bene. Presidente, ma l'accadita alla fine chi ha prosciugato l'Adige? Guardi, quella del prosciugamento dell'Adige è una curiosa situazione che si è palesata oggi alla Camera. Penso sicuramente che abbiamo capito chi ha portato via i sassi dall'Adige. Grazie. 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 Grazie.